Ma per l'amor di Dio, siamo contentissimi e ringraziamo sempre il Signore. È contentissimo, abbiamo pregato proprio perché il Signore intervenisse in questa situazione molto precaria, molto difficile. Siamo sempre contenti quando succedono queste cose, quando li liberano, siamo sempre contenti. Una buona notizia ogni tanto anche a tutti. Anche se non conoscendoli, ma siamo contenti. Bellissima, una bella notizia. Veramente si sentono delle belle notizie, queste fanno veramente piacere. Ce ne vorrebbe tante belle così. Sono contento sì, perché quando succedono queste cose, non ho visto che succede. Io sono molto contento che l'hanno liberato, questo sacerdoto, veramente. E non è giusto sequestrare le persone, perché un sacerdoto porta l'umanità nel mondo.